I fatti più salienti del 2013 tra cronaca, sport e politica. Il riassunto al TG98. 24enne cade e muore per una buca. Chiara l'amendola stava percorrendo la via Cavalieri Magazzini con suo scooter quando ha perso il controllo. Imbancabili gli auguri di un buon 2014 dal sindaco dirigente Marco Zambudo. Passo avanti all'Arsi per l'approvazione della finanziaria evitato in estremis l'esercizio provvisorio costi standard della sanità. Ben trovati al TG98 i fatti e misfatti più salienti del 2013 tra cronaca, politica e sport. Il riassunto di un anno al TG98. Vediamo il servizio di Nicolo Giangreco. Incidenti, elezioni, bufere giudiziarie ed eventi. Il 2013 lascia tanti ricordi, belli e meno belli. Un anno intenso, ricco di notizie che proviamo a riassumere con le notizie più interessanti dell'anno. E' la notte tra l'1 e il 2 febbraio quando crolla una porzione del viadotto Verdura tra Ribere e Sciacca. La provincia è spezzata a metà e il traffico subisce fortissimi disagi. Quella parte di viadotto verrà poi ricostruita e il traffico verrà ripristinato. E' il 6 febbraio quando a Villa Franca Sicula Mario Cardinale, cinquantenne di Bivona, viene travolto da una frana mentre era alla guida di un escavatore. Il suo corpo rimarrà sepolto lì fino al 14 febbraio, quando i vigili, il fuoco e la protezione civile, dopo giorni di lavoro, riescono a tirare fuori l'operaio, purtroppo cadavere. La vicenda ha tirato l'attenzione dei media nazionali perché a distanza di giorni non si sapeva ancora se l'uomo fosse vivo o morto, seppur sepolto dalle macerie. La Procura della Repubblica ha dato la smossa decisiva. Così, pochi giorni dopo, le ruspe hanno acceso i motori ed hanno buttato giù l'ecomostro costruito sulla spiaggia della Scala dei Turchi. Il 6 giugno venne liberata la splendida spiaggia della Scala, ma prima della fine dello stesso mese la Procura insiste, chiede e ottiene anche l'abbattimento degli ecomostri sulla spiaggia di Lido Rossello. Si aprono le urne, rinnovano Sindaco e Consiglio Comunale i comuni d'Alessandria della Rocca, Burgio, Calamonaci, Camastra, Castrofilippo, Cianciana, Grotte, Ioppolo Giancaxio, Licata, Lucca Sicula, Menfi, Palma di Montechiaro, Ravanusa, Sambuca di Sicilia, San Giovanni Gemini e Sant'Angelo Muxaro. A Grotte sono addirittura in cinque a correre per la poltrona di Sindaco. Alla fine la spunta Paolino Fantauzzo. Nulla da fare per l'uscente Paolo Pilato. La Regione ha deciso, le province vanno commissariate, così consigli provinciali e presidenti fanno le valigie e tornano a casa. Arrivano i commissari, siamo nel mese di giugno e anche Eugenio Dorsi, tra polemiche e attacchi al governatore Crocetta, lascia l'ufficio di piazzale Aldomoro. A suo posto arriverà Benito Infurnari, nominato commissario della Regione. Il 19 giugno la Guardia di Finanza di Palermo sta eseguendo diverse misure cautelari nell'ambito di un'inchiesta riguardante viaggi ed escort in cambio di favore alla Regione siciliana. Le fiamme gialle bussano anche alla porta dell'agrigentino Luigi Gentile, già assessore regionale e deputato di Flì. La bufera giudiziaria lo coinvolge in pieno e il noto personaggio politico agrigentino viene arrestato. L'acrega scalcio dopo 18 anni torna a far sognare la città. Il mister ragusano Pino Rigoli, a cui il presidente Silvio Alessi affida la squadra per la prima volta nella stagione 2012-2013, porta i colori agrigentini in Serie D. Una promozione stellare, dettata unicamente da gioie e successi. Lo stadio torna ad essere gremito e la domenica torna ad essere una grande festa, proprio come alcuni decenni fa. Trascorsa l'estate, mister Rigoli richiama i suoi per iniziare a lavorare in vista del nuovo impegnativo campionato di Serie D. I primi mesi del 2014 saranno decisivi. Intanto i biancazzurri hanno fatto sognare anche nella categoria superiore. Un anno stellare per il calcio agrigentino, anche con le promozioni di Sporting, Racalmuto e Libertas 2010. Quest'ultima, oltre ad aver vinto il campionato di prima categoria, conclude da imbattuta. A Barcellona Pozzo di Gotto vince la Coppa Italia, battendo 2-1 il Paceco. Lo Sporting, Racalmuto, raggiunge i Cugini vincendo la finalissima play-off sul neutro di Gela, ai calci di rigore contro la nuova Camarinense. Ma la promozione è anche per l'Acregas Volley, che stravince il campionato 2012-2013 dopo una stagione di sole vittorie, approdando così in B1. Nel nuovo anno arriva un nuovo allenatore, è Valerio Lionetti. Nel basket, invece, la fortitudo Moncada-Grigento sfiora la promozione Lega 2 Gold nella stagione 2012-2013, fermandosi in semifinale contro Matera. Coach Francociani e il DS Christian Maier costruiscono così la nuova squadra per il campionato 2013-2014 a Deco Silver e dopo un inizio un po' zoppicante i Biancazzurri alzano la voce e raggiungono il secondo posto in classifica. 28 giugno, truffe all'Inps e all'Inail, operazione dei carabinieri della procura di Agrigento, sei persone arrestate, due in carcere e quattro ai domiciliari, due divieti di dimora, 87 indagati. Come truffare lo Stato? Escogitando stratagemmi ed espedienti. Nel mirino due enti statali, l'Inps, l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, e l'Inail, l'Istituto Nazionale Assistenza Invalidi del Lavoro. È il primo di luglio, la notizia lascia tutti a bocca aperta. Papa Francesco ha deciso di visitare Lampedusa, così il Santo Padre, l'8 luglio, a sette giorni esatti dall'annuncio della visita, atterra l'aeroporto dell'isola. È la prima volta nella storia che un Papa visita la Crocevia di Popoli, in cui sono arrivati e arrivano decine di migliaia di migranti in fuga dall'Africa. La sua omelia resterà nella storia. È stata definita una delle peggiori stagioni degli ultimi vent'anni. Le acque torbide e continuamente sporche affondano l'estate 2013 per commercianti e abitanti di San Leone, il lido balneare di Agrigento. Il sindaco, dopo anni di silenzi, improvvisamente parte all'attacco contro Girgenti Acque, ma l'ente gestore del servizio idrico si difende e contrattacca. Intanto però anche questa stagione è andata persa. Pensavano di averla fatta franca, ma due poliziotti che liberi dal servizio stavano passeggiando in mia Atenea li hanno notati mentre cercavano di vendere preziosi ad un compro oro. Ne è nata un'attività investigativa che da lì a poche ore porterà a scoprire che i tre fermati avevano poco prima rapinato e poi violentato una prostituta colombiana. Il 25 settembre i tre vengono arrestati dalla polizia. È una data che resterà dolorosamente impressa nella storia. È il 3 ottobre a Lampedusa quando una chiamata di soccorso giunge alla sala operativa della Capitaneria di Porta Empedocle. Siamo in tantissimi, imbarchiamo acqua. Il barcone sta affondando. Aiutateci! Le motovedette mollano gli ormeggi e raggiungono l'isola dei Conigli. Gli uomini della Guardia Costiera soccorrono i primi migranti in acqua. Dopo qualche minuto il mare si trasforma in un tappeto di cadaveri. È la tragedia più grande del Mediterraneo. Muoiono 366 persone. Soltanto pochi giorni dopo, l'11 ottobre, un altro barcone affonda tra Lampedusa e Malta. Nuovamente centinaia di morti. La notizia lascia tutti increduli e sgomenti. Giovanni Alessi, imprenditore agrigentino molto conosciuto in città e non solo, viene trovato morto nella sua campagna di Re al Monte la sera del 18 ottobre. Ad ucciderlo è stato il suo asino in preda ad una inspiegabile furia. Una morte assurda che l'intera città fatica a digerire. Ai funerali, a cui hanno partecipato migliaia di persone, il feretro è stato portato in spalla dai giocatori dell'Acragas Calcio, la squadra preseduta da fratello Silvio. È la sera del 23 ottobre. Una raffica di proiettile esplosi in contrada ciotta a Palma di Montechiaro. Raggiunge l'auto sulla quale viaggiava un diciassettenne insieme ad altri due amici. Un colpo lo colpisce alla nuca e lo uccide. Partono le indagini e la caccia all'uomo nelle campagne dove è accaduto il fatto. I poliziotti ancora lavorano per far luce su quel terribile delitto. 29 ottobre, in un terreno a Canigattis, scoperto il cadavere dell'imprenditore di Licata Giovanni Brunetto. La procura di Agrigento arresta una seconda volta gli indagati Carità e Bianchi. Lo scorso 20 maggio sono stati arrestati, poi il 10 giugno sono stati scarcerati dal Tribunale del Riesame di Palermo che ha confermato gli indizi di colpevolezza ma ha rilevato la non certezza dell'omicidio perché il cadavere di Giovanni Brunetto al 10 giugno non è stato ancora scoperto e quindi è stato ipotizzabile anche un suicidio o un allontanamento volontario. Adesso la procura della Repubblica di Agrigento ha ordinato una seconda volta l'arresto dell'imprenditore agricolo di Licata Angelo Carità, 58 anni, e del suo dipendente Angelo Bianchi, 37 anni, anche lui di Licata. I due sarebbero responsabili dell'uccisione dell'imprenditore agricolo Giovanni Brunetto, 60 anni di Licata, del quale non è stata più nessuna traccia dallo scorso 7 maggio. Brunetto sarebbe stato creditore di una somma tra i 40 e i 100 mila euro verso Angelo Carità. Una famiglia distrutta un istante e il 13 novembre sulla strada Palermo-Sciac il piccolo Alberto Titone di due anni viaggia in auto insieme a papà Giovanni, mamma Maria e nonna Rosa. Improvvisamente però lo scontro frontale con un'altra auto nei pressi del bivio per Giacalone, vicino Morreale, muore il piccolo insieme alla madre e alla nonna. Il padre si salverà ma risulterà positivo alla cannabis. La procura di Palermo apre un'inchiesta. 20 novembre. I poliziotti del commissariato di Portempero che agli ordini di Cesare Castelli e della squadra mobile di Agrigento capitanata da Corrado Empoli hanno arrestato nove indagate a vario titolo per detenzione, porto illegale di armi da sparo, fabbricazione, trasporto in luogo pubblico di bottiglie incendiarie, danneggiamento, minacce aggravate, rapina e detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Il siculianese Rosario Bellavia, 50 anni, arrestato nell'ambito dell'operazione antimafia Nuova Cupola, lo aveva detto più volte al suo legale l'avvocato Totò Pennica. L'uomo detenuto nel carcere di Caltanissetta aveva più volte manifestato la volontà di suicidarsi perché si definiva innocente vittima di un'ingiustizia. Voleva essere ascoltato dagli inquirenti. Il difensore ha così avvertito immediatamente l'autorità giudiziaria ma Bellavia, non vedendo risposte, ha deciso di farla finita. Si è impiccato in carcere qualche ora prima del Santo Natale. La famiglia ora chiede giustizia. Una 24enne di Agrigento, Chiara Lamentola, è morta in un incidente stradale verificato se in via Cavaleri Magazzini ieri pomeriggio. La giovane era sullo scooter quando, per causa ancora non chiare, è finita contro una Nissan. L'impatto è stato violento. L'ambulanza l'ha trasportata in codice rossa all'ospedale San Giovanni di Dio, dove però è arrivata morta. Forse una buca nella strada ha provocato l'incidente e la morte di Chiara Lamentola ad Agrigento. Forse, almeno così si racconta, la 24enne si è imbattuta in una scappa profonda come una voragine, colma di acqua e ha tentato di scalzarla perché avrà capito subito, quasi per istinto, che se l'avesse attraversata sarebbe caduta e molto probabilmente sarebbe caduta davvero. E se responsabilità vi sono, allora saranno la polizia locale, i carabinieri e la procura di Agrigento ad accettarle e a castigarle. Chiara Lamentola è sorella di Marco Lamentola e figlia di Lillo Lamentola, apprezzate i fotografi e cameraman di Teleacras. A Marco e Lillo Lamentola, la famiglia tutta lo staff di Studio 98 rivolge le più sentite e profonde contoglianze. E adesso in merito sentiamo l'intervento dell'Avvocato Giuseppe Arnola. Vi voglio raccontare, signori Agrigentini, come si muore a 24 anni nel pieno della vita ad Agrigento. Siamo in via Cavalieri Magazzini, all'altezza di via degli Spagnoli. Guardate il tratto di strada che noi offriamo ai nostri giovani che circolano con i motorini. Da un lato abbiamo questo bellissimo complesso di opere d'arte pericolosissime che si vedono però. Queste opere d'arte chi viene in motorino le vede. Quello che chi viene in motorino non vede è questa enorme buca che ieri era colma d'acqua e sembrava la normale pavimentazione d'asfalto. È una buca di 12 centimetri. Guardate, una buca trappola di 12 centimetri con i super trappoloni. Qui abbiamo questa bella pietra, poi si scende, poi si sbatte. La ragazza, Chiara, percorre questa via, la percorre regolarmente sulla sua destra. Vede quelle schifezze che abbiamo mostrato poco fa e che invito a riprendere. Le evita mantenendosi tranquillamente sulla sua destra. Tutto è pieno d'acqua. Pensa che questa buca non esiste. La va ad investire in pieno. La ragazza viaggia con un motorino 50 a 40 all'ora tranquillamente. Prende la buca in pieno, la buca di 12 centimetri in pieno e perde il controllo del motorino. Va a finire col motorino all'altezza di quell'auto, di quella Fiat, con le frecce accese. Urta lievemente la Fiat con le frecce accese e va a sbattere dall'altro lato della strada. Non si è accorta di nulla, non ha avuto il tempo di frenare. Si trova travolta col suo motorino. Va a finire più o meno all'altezza di quel cartello stradale. E lì la vita la abbandona. Un papà e una mamma hanno perso una figlia a 24 anni. I fratelli hanno perso la sorella. Il fidanzato, la compagna con cui ha costruito un progetto di vita. Non c'è altro da aggiungere. Io propongo di cambiare il nome a questa via. Da via degli spagnoli a via delle trappole. Facendo il sopralluogo per la morte di Chiara Lamentola, guardate cosa viene fuori. Qui abbiamo questo bellissimo avvallamento e non avete ancora visto niente. guardate come si montano i tombini al comune di Agrigento. Prego l'operatore di venire dal mio lato. Abbiamo un'altra trappola mortale. Un ragazzo che esce da via degli spagnoli si trova davanti questo tombino che si solleva dal mando stradale per 4 centimetri. Se il ragazzo va a velocità, fa un meraviglioso volo. Come vedete, a poca distanza, a 4 metri, abbiamo la buca che ha ucciso Chiara Lamentola. E vediamo un'altra bellissima trappola. Il tutto in un raggio di 3 metri lineari. Pensate che quest'altra buca sia sufficiente per provocare la morte di un altro ragazzo? Io penso proprio di sì. Abbiamo un'altra buca di 8 centimetri. Peraltro con accanto questo meraviglioso cerchio in ferro che favorisce lo slittamento delle ruote dopo la botta che darebbe questa buca. Queste sono le strade agrigentine. Per ripararle, per riparare questi disastri che vediamo, basterebbero poche ore di lavoro e poche decine di euro d'asfalto. E ad agrigento su iniziativa di Marcello Lascala, venerdì prossimo 3 gennaio alle ore 18, da Porta di Ponte è stata organizzata una fiaccolata in memoria di Chiara Lamentola, lungo la via Atenea, con un lumino acceso, che sarà poi deposto da tutti i partecipanti simbolicamente innanzi all'ingresso del comune in piazza Pirandello. Un bambino di due anni, Giovanni Cartaino, è morto e fratello ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Cervello di Palermo, in seguito ad un incidente stradale avvenuto sull'autostrada Palermo-Mazzara del Vallo, all'altezza dell'uscita per l'aeroporto Falcone-Borsellino. Secondo le prime ricostruzioni, l'auto su cui viaggiavano i due bambini, guidata dalla nonna, anche lei ferita gravemente, si è schiandata per causa ancora non chiarite contro il guardarrail. I tre, tutti palermitani, si stavano recando per festeggiare il Capodanno in una villetta. I bambini avrebbero insistito per andare in auto con la nonna materna. All'altezza del bivio, che a destra conduce al Falcone-Borsellino e a sinistra prosegue in direzione Mazzara, la signora ha perso il controllo dell'auto. Una frenata improvvisa e l'auto ha iniziato a sbandare prima di schiandarsi sul guardarrail, forse per la pioggia battente, forse per evitare un animale che all'improvviso ha tagliato la strada alla donna. Al momento sono tutte ipotesi al baglio della polizia stradale, che ha eseguito i rilievi sul luogo dell'incidente e indaga per ricostruire la dinamica. Da verificare se i piccoli indossassero o meno la cintura di sicurezza o se erano seduti nelle sedile posteriori. Fuochi d'artificio a Capodanno, anche il più innocuo dei pedaldi può rivelarsi pericoloso. Vediamo come prevenire gli incidenti e festeggiare soprattutto l'ultima sera dell'anno in tutta sicurezza. Vediamo. Salvatore Timpano è il responsabile della squadra artificieri della Questura di Roma. So che ci avete preparato alcuni oggetti, alcuni fuochi artificiali, per spiegarci quali sono le accortezze da tenere nel caso in cui si decida comunque di festeggiare con i fuochi artificiali a Capodanno. Beh sì, anche perché è falso quando si pensa che solo i fuochi illegali sono pericolosi. Anche i fuochi illegali, se non utilizzati in maniera consula, in maniera così come dice l'etichetta esposta sul fuoco stesso, diventa pericoloso chiaramente. Noi ecco qui abbiamo delle batterie, delle piccole batterie, delle scintille, dei coni. Questi sembrano in apparenza dei fuochi artificiali, come dire, innocui per i ragazzi e anche per i bambini. Invece? Invece, pur essendo legali, hanno la loro pericolosità. Ecco, se noi nel momento in cui l'accendiamo ci mettiamo con la faccia sopra è pericoloso perché ci può arrivare in faccia e quindi si accende allontanandoci dalla miccia. Oppure bisogna fissarla bene a terra perché nel momento dell'accensione la forte carica la potrebbe far rigirare e quindi ad altezza d'uomo colpire qualcuno. E così anche le altre cose, anche la scintilletta, per esempio queste piccole scintille che noi vediamo, questi sono dei razzetti che partono, non vanno mai puntati verso le abitazioni, verso le persone. Ma anche la classica scintilla di Natale, se noi utilizziamo del materiale infiammabile, tipo pile, tuta eccetate o altro, può diventare pericoloso perché un bimbo, un qualcuno che accende e ci va la scintilla sopra diventa una torcia umana. Quindi massima attenzione e soprattutto sempre in luogo aperto, mai in casa. Sempre in luogo aperto, mai in casa, in luoghi chiusi. E sempre se si utilizza, non dovrebbero mai utilizzarli i ragazzini, ma anche l'utilizzo dei ragazzini, ci vuole un adulto vicino, il padre è un adulto, qualsiasi persona che sappia intervenire immediatamente. Esatto, qui abbiamo un rauto invece, un classico rauto. Ecco, per esempio, se noi questi li troviamo a terra, non li dobbiamo mai raccogliere, come hai fatto tu. Quindi ho sbagliato. Hai sbagliato, perché noi lo chiamiamo il pericolo del giorno dopo. Che cos'è? Il pericolo del giorno dopo, praticamente alla sera di Capodanno, alla notte di Capodanno tutti sparano, poi tante di questi aggeggi qui non esplodono e rimangono sulla strada. I bambini poi, la mattina dopo, escono in strada, vanno a raccogliere, ci può essere un'autocombustione, li riaccendono con una miccia troppo corta perché si è consumata la sera prima e sono causa di tutte queste corse al pronto soccorso, dove poi in quei nosocomici sta l'amputazione delle dita, delle mani, per non dire altro. Ci sono i fuochi legali, ma ci sono anche quelli illegali. Massimiliano, questi sono fuochi artigianali che voi avete preparato per mostrarci. Che cosa rappresentano, cosa sono e quali sono i loro pericoli? Allora, sono dei veri e propri ordigni artigianali, quindi li trattiamo come tali perché è sconosciuta la loro carica interna, il loro meccanismo di attivazione, non rispondono a nessuna caratteristica di sicurezza conosciuta, per cui per noi è da trattare assolutamente come ordigni artigianali. Vediamo questo tipo di ordigno che può avere al suo interno diversi grammi, centinaia di grammi di esplosivo, a basso potenziale, non lo chiamiamo, quindi polveri pirotecniche, assolutamente sensibili e assolutamente pericolose. Sono polveri sensibili per cui possono innescarsi con il minimo attrito, il minimo innesco. Troviamo un fuoco artificiale di questo tipo per strada. Cosa dobbiamo e cosa non dobbiamo fare? Assolutamente nulla, nel senso che non dobbiamo toccarli, avvisare immediatamente la polizia tramite il 113 che poi interverrà nei modi dovuti. Quindi nemmeno allontanarli con un calcio, ad esempio, che può avvenire spontaneo? Assolutamente no, non toccarli, anzi avvisare il più possibile della presenza di questi veri e propri ordigni artigianali e naturalmente, come ho detto prima, chiamare il 113 per quanto di competenza. Un'intera famiglia arrestata lo scorso 13 dicembre nell'operazione Eden sui fiancheggiatori del boss latitante Matteo Messina Denaro. E' stata scarcerata ieri per decisione del Tribunale del Riesame che ha annullato l'ordine di custodia. Tornano così in libertà l'imprenditore di Castelvetrano Giovanni Filardo, accusato di fittizia e distrazione di beni ai familiari, con l'aggravante di aver favorito la mafia. La moglie Francesca Maria Barrese e le figlie Valentina e Floriana, difesi dagli avvocati Niro Caleca, Roberto Mancano e Vito Signorello. Scarcerato dal Riesame anche un altro dei 28 arrestati nell'operazione del giorno di Santa Lucia, l'ingegnere Giuseppe Marino, al quale sono stati concessi i domiciliari. Marino è accusato di corruzione non aggravata per la gestione di apparte nel carcere palermitano del Lucciardone. A Licata la polizia ha arrestato Angelo Paraniffo, 24 anni di Licata, per tentato furto aggravato in abitazione, violazione della misura della sorveglianza speciale, resistenza pubblico ufficiale. È stato invece denunciato a piede libero un minorenne di 16 anni per concorso nello stesso tentato furto. Paraniffo è detenuto agli arresti domiciliari. Secondo, ingegno notturno in meno di 24 ore a Licata, dopo il rogo che la notte precedente ha divorato un furgone. Adesso l'auto distrutta dalle fiamme è un Renault Clio di proprietà di un bracciante agricolo di 51 anni nel luogo. A spegnere le fiamme, vedendo al rogo di estendersi alle altre vetture, sono stati vigili del fuoco del distaccamento di corso Argentina. I militari dell'arma nel corso del sopralluogo avrebbero rinvenuto tracce che ricondurrebbero alla matrice dolosa. Rivendicavano entrambi il diritto di poter trascorrere la domenica con i due figli. Questo è stato il motivo di una lite tra due ex-coligi scoppiata a Porto Empedocle. A sedare gli animi ci hanno pensato gli agendi del locale commissariato di polizia diretto dal vicequestore aggiunto Cesare Castelli. I poliziotti hanno riportato la calma ed evitato che la lite verbale degenerasse. E a Porto Empedocle, un anziano di 72 anni ha richiesto l'intervento dei poliziotti per un'aggressione subita. L'uomo sarebbe stato malmenato dal figlio di 49 anni. All'origine dell'atterco, motivi economici legati alla compra vendita di un televisore. L'anziano padre infatti avrebbe deciso di vendere l'apparecchio al figlio che però lo avrebbe portato nella sua abitazione senza pagarlo. Alla richiesta dei soldi del padre il 49 anni avrebbe reagito in modo scomposto arrivando perfino a mettergli le mani addosso. Fortunatamente l'arrivo dei poliziotti ha evitato che la lite degenerasse. Celebrati a Palermo nella chiesa di Sant'Eugenio Papa i funerali di Alessandra Siragusa, l'ex parlamentare del Partito Democratico, morta a 50 anni sabato a seguito di una grave malattia. Tante le testimonianze, soprattutto da parte dell'Aggiunto Orlando, all'epoca della primavera di Palermo. Sentiamo. Presidente Crocetta, Alessandra Siragusa ha rappresentato la primavera di Palermo. Mi piace ricordare di Alessandra la sua semplicità il modo bello di porsi rispetto agli altri sempre disponibile a confronto sempre disponibile a discutere con tutti. Questo me la rende grande c'è una persona che non aveva l'arroganza che spesso a partire dai politici è una di chi ha sempre ragione o di chi vuole sempre prevalere. Una persona invece che realmente era innamorata della democrazia e del metodo democratico io la ricorderò così. Qual è l'esempio che Alessandra Siragusa ha lasciato alla nostra politica? L'esempio di una passione. Alessandra è una palermitana che si è formata nella politica della passione, cioè dell'amore per la sua città per la bellezza di fare cose nuove e cambiare la vita di tanti cittadini attraverso la bella politica. Era nel pieno ancora della sua giovinezza una donna di 50 anni ancora in quella bella maturità di una donna che ha fatto esperienza ma che ha ancora tanto da dire e tanto da dare. Alessandra ha segnato la storia politica di in tre generazioni la mia è la generazione della scuola d'otto un monumento ed è la generazione che ha avuto anche il privilegio di poter lavorare a fianco a lei. Noi siamo stati insieme candidati alle regionali in una lista a Borsellino dopodiché abbiamo iniziato la battaglia per la sua candidatura alle primarie a sindaco e ricordo che lei scommettava tanto sui giovani di aver affidato a me il compito anche di rappresentarla al tavolo delle primarie. Quello che ricordo di lei è che sicuramente conosceva la politica ha cambiato la politica in questa città ma non si è mai fatta cambiare dalla politica e credo che questa città avesse ancora bisogno di lei. Adesso la prima pausa pubblicitaria subito dopo. Passo avanti all'Ars per l'approvazione della finanziaria evitato in extremis l'esercizio provvisorio costi standard della sanità di servizio. In cardinate all'Ars il bilancio della Regione e il disegno di legge di stabilità le opposizioni hanno chiesto un congru lasso di tempo per la presentazione degli emendamenti bisogna considerare è la sostanza della tesi delle opposizioni che la finanziaria è una legge complessa e merita attenzione appena due giorni per la presentazione degli emendamenti sono pochi anche in considerazione delle vacanze per Capodanno Alla luce di queste richieste il presidente dell'Ars facente funzione Salvo Pogliese ha sospeso la seduta e convocato una conferenza dei capigruppo per affrontare il problema dell'iter parlamentare della manovra la capigruppo ha stabilito che gli emendamenti si potranno presentare entro il pomeriggio del 3 gennaio invece del 2 come era stato comunicato all'Aula quindi l'Ars avvierà il dibattito sui documenti finanziari sabato 4 gennaio secondo quanto sostenuto da esponenti di maggioranza e dal presidente dell'assemblea Giovanni Ardizzone si eviterà il ricorso all'esercizio provvisorio la commissione bilancio per arrivare all'appuntamento d'aula ha lavorato non stop la notte precedente fino alla mattinata di ieri ricevendo anche l'apprezzamento del presidente Ardizzone esteso agli uffici dell'Ars nonostante il ritardo per motivi oggettivi con il quale i documenti sono arrivati in assemblea il lavoro serrato della commissione ha consentito di incardinare la manovra finanziaria in aula entro il 31 dicembre evitando così un dannoso esercizio provvisorio un particolare da segnalare riguarda le province tanto per essere in tema rispetto allo scivolone dei giorni scorsi con la bocciatura della proroga delle gestioni commissariali con la legge di stabilità alle soppresse province si assegnano 10 milioni di euro per il funzionamento nelle more della definizione della riforma complessiva degli enti intermedi questi 10 milioni di euro escritto nella finanziaria dovranno essere destinati prioritariamente ai servizi socioassistenziali in favore dei disabili alla garanzia del diritto allo studio al funzionamento dei consorsi universitari al pagamento dell'espettanza al personale dipendente nel settore sanitario si introduce il criterio dell'applicazione dei costi standard con conseguente revisione delle procedure di acquisto per un risparmio stimato in 100 milioni di euro i fondi dell'ex tabella H sono passati dagli oltre 7 milioni di euro del 2012 ad appena 1 milione 600 mila euro nel decreto firmato ieri dall'assessorato regionale beniculturale si finanziano infatti 48 enti per 1 milione 616 mila 323 euro il totale dei contributi richiesti alla regione erano di 4 milioni alla fondazione Leonardo Ciaccia di Racarmuto inserita nell'elenco A della gradatoria è stato riconosciuto un contributo pari a 52 mila euro immancabili gli auguri per un buon 2014 dal sindaco di agrigento Marco Zambuto seguiamo l'intervista al sindaco realizzata ieri mattina sindaco si chiude il 2013 un anno sicuramente difficile quale è il suo bilancio ma è un anno importante perché è un anno che ha segnato che il comune di agrigento non è più ente strutturalmente deficitario e c'è un obiettivo significativo degli anni di mia amministrazione assolutamente faticosi noi avevamo 50 milioni di euro di debiti in questi anni abbiamo subito il taglio dei trasferimenti che avrebbe dovuto comportare la chiusura del comune il licenziamento il non pagamento di tutti i fornitori di tutti i debiti che erano a carico del comune questo nonostante la condizione generale del paese le condizioni generali e soprattutto i tagli ai trasferimenti non l'abbiamo fatto abbiamo a fronte di chi in questi anni l'unico sport che ha esercitato è stato quello del tiro al piccione del tiro al bersaglio sempre scagliare contro la pietra e le pietre contro l'amministrazione contro il sindaco noi abbiamo tenuto con grande forza la croce l'abbiamo tenuta con grande dignità oggi portiamo un risultato importante per cui il nostro comune esce all'essere strutturalmente deficitario e poi con il 2013 si completano tutte le procedure per cui con il 2014 iniziano i lavori sulla rete di depurazione della nostra città con il 2014 iniziano i lavori sulla rete idrica della nostra città con il 2014 iniziano i lavori proprio i primissimi gennaio sul centro storico di Agrigento tutti i lavori e tutte iniziative sulle quali abbiamo lavorato iniziando dall'anno zero in questi sei anni di mia amministrazione perché abbiamo iniziato senza progetti abbiamo iniziato senza risorse finanziarie e finalmente dopo anni di burocrazia e di lotte e di conquiste questi con il 2014 diventano cantieri aperti per Agrigento siamo andati a recuperare anni di gap anni di ritardi nei quali questa città solamente nel 2007 ancora nel 2007 l'acqua arrivava ogni 15 giorni nelle nostre case certo c'è un fronte aperto con Girgenti Acque e questa è tutta una vicenda sulla quale continuiamo la nostra battaglia però non c'è dubbio che abbiamo fatto sì che la nostra città uscisse da condizioni di grande drammaticità io voglio cogliere anche segnali positivi che sono venuti fuori in questo ultimo anno cioè sono venuti fuori segnali positivi per esempio dal territorio tanti giovani nei quartieri nel centro storico che hanno voluto recuperare parti di territorio hanno voluto recuperare soprattutto dare il segnale di giovani che non stanno a guardare ma che si vogliono impegnare per la loro città e questo è un segnale assolutamente positivo e da valorizzare per l'anno che sta per entrare è deprecabile politicamente che impegnati nell'opposizione si tende a tracciare dei distinguo arrogandosi meriti e giudicando il negativo comportamento degli altri impegnati nella stessa opposizione a tutto vantaggio della maggioranza a cui ci si oppone così dichiarano i consiglieri comunali di Agrigento dei gruppi consigliari del patto per il territorio forse tale nuovo centrodestra a seguito delle dichiarazioni di alcuni esponenti in consiglio comunale del movimento per le autonomie che hanno stigmatizzato l'orientamento di voto di astensione o di assenza di altri colleghi consiglieri dell'opposizione patto per il territorio forse tale nuovo centrodestra aggiungono scopriamo adesso di non essere soli nell'opposizione consigliare all'amministrazione Zambuto da quasi un anno abbiamo condotto e sostenuto iniziative politiche in ogni ambito tra piano regolatore gestione dei servizi dei rifiuti manutenzione delle strade la fondazione Pirandello la contabilità gli investimenti i finanziamenti sfuggiti e tanto altro e mai gli oppositori di oggi hanno sollevato la loro lancia condividendo le nostre battaglie adesso dopo il voto sul bilancio anziché rilevare che il 14 a 11 dei voti in consiglio scioglie come neve al sole la stabilità della maggioranza cogliendo dunque il dato politico della votazione si salta sul palco dell'esibizionismo fine a se stesso mandando ruoli da prime donne rispetto ad altri colleghi impegnati nello stesso fronte si tratta di un atteggiamento fuori luogo e ripetiamo deprecabile politicamente auspichiamo che si sia trattato solo di un incidente di percorso comunque sia noi non smarriremo la nostra strada in occasione dell'insediamento ufficiale del nuovo prefetto di Regento Nicola Diomede le segretarie provinciali di CGL Cisneguilli hanno chiesto un incontro Massimo Raso Maurizio Saia e Aldo Broccio affermano in una lettera aperta indirizzata a Presidente Letta e al Ministro Raffano abbiamo sostenuto la necessità per la provincia di Regento di un prefetto ovvero di un rappresentante del governo che con pienezza di poteri e l'autorevolezza della carica possa contribuire a risolvere le numerose emergenze di una realtà complessa come quella grigentina la novena di Diomede soddisfa pieno queste condizioni per imprimere una svolta nella risoluzione dei tanti problemi che purtroppo attanagliano la nostra provincia e a Palermo dopo il trasferimento del questore Nicola Zito si è insediata la prima questore donna della città si tratta di Maria Rosaria Maiorino 58 anni di Amalfi in provincia di Salerno sediamo ho molto senso della squadra ho una formazione operativa e ritengo che i risultati si ottengono soltanto lavorando tutti quanti assieme l'individualismo non porta mai a niente la rete interistituzionale è decisamente importante ma dobbiamo coinvolgere in questa rete tutti i cittadini ai quali chiediamo collaborazione abbiamo bisogno che i cittadini si aprono verso di noi acquistino fiducia in noi e che collaborino con noi in maniera fattiva non soltanto a parole io sono programmatica aspetto sempre fatti risposte concrete aspetto fattività da parte della parte sana della popolazione e di parte sana ce n'è tanta è una squadra è una squadra di donne il prefetto è donna quello che conta è il modo di approcciarsi con il lavoro il modo di operare Palermo è una città difficile quali sono secondo lei le priorità da affrontare? le problematiche sono tante di ordine pubblico di polizia giudiziaria datemi il tempo di guardarmi un po' attorno si avvia a conclusione l'iter per il completamento dell'ITCG di Bivona entro il 15 gennaio infatti dovranno essere presentate le offerte per la costruzione di 25 nuove aule dell'istituto si tratta di uno dei progetti inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche finanziato con fondi regionali la durata del lavoro è prevista in 365 giorni a decorrere dalla data di consegna dei lavori le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13 del giorno 15 gennaio nella sede dell'ufficio regionale espletamento di gare di appatti sezione provinciale di Agrigento via Crone numero 51 Agrigento l'apertura delle offerte avverrà in prima seduta pubblica nelle sede dell'Ureca ad Agrigento alle ore 9 del giorno 22 gennaio l'eventuale seconda seduta pubblica presso la medesima sede il giorno dopo bene bene adesso la seconda e l'ultima pausa pubblicitaria subito dopo lo sport calcio l'agaga si chiude l'anno con le due operazioni di mercato sia l'entrata che in uscita il direttore sportivo Ernesto Russello ha trovato l'indesa con il calciatore Daniele Arena fratello di Nicola di ruolo centrocampista offensivo già a Ragusa il neo biancazzurro previene dalle chieti militante in seconda divisione classe 1993 può dare una significativa esperienza in serie D l'altra operazione riguarda invece lo svingolo di Dario Costa classe 94 tornato alla sua società di origine e cioè il Trapani l'agaga sentanto ha ripreso regolarmente la preparazione in vista della prima partita del girone di ritorno in programma allo Stadio Seneto domenica 5 gennaio a fare visita alla capolista sarà il pomigliano semifinalista di Coppa Italia che ad aggrigendo ha superato i biancazzurri dopo i calci di rigore ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale non mi resta che augurarvi un buon inizio 2014 e che questo nuovo anno porti serenità e gioia a tutti buona fine e buon peggio adesso le previsioni ben tornati da Paolo Corazzola a questo aggiornamento delle previsioni di tre bimetro per la giornata del primo dell'anno quindi vediamo come si apre il 2014 c'è ancora un po' di instabilità al sud ma è in rapido miglioramento col passare delle ore invece in giornata il tempo inizia a peggiorare sulle regioni di nord-ovest tra poco entreremo nel dettaglio diamo un'occhiata alle temperature minime della notte del primo di gennaio temperature piuttosto basse al nord anche sotto zero in alcune località valori in diminuzione anche nelle regioni centrali per quanto riguarda le massime sempre piuttosto contenute nelle regioni settentrionali come vedete invece al centro-sud si sta ancora abbastanza bene tocchiamo i 13-14 gradi ora entriamo nel dettaglio della previsione diciamo graduale peggioramento al nord a iniziare dalle regioni di nord-ovest tra la Liguria e l'alta Toscana prevediamo anche qualche goccia di pioggia in giornata poi alla fine del giorno piogge anche in Piemonte e in Lombardia nelle regioni centrali invece tempo relativamente buono un po' per tutto il giorno solo in Toscana come dicevamo aumenteranno le nuvole e nella parte alta della regione arriverà anche qualche goccia di pioggia infine un'occhiata al sud Italia ancora molta instabilità a inizio giornata sul versante ionico intorno allo stretto di Messina situazione comunque che tenderà a migliorare e in Sardegna tempo come vedete abbastanza bello con questo è tutto da parte mia di tutto lo stato di Trevi Meteo i migliori auguri per uno splendido 2014 aggiornamenti in tempo reale anche su Facebook Twitter e Google Plus alla voce Trevi Meteo Grazie a tutti